Nell'aldilà, nella dimensione dei risorti in Cristo, i nostri sensi saranno molto più evoluti perché nella risurrezione assumeremo il nostro corpo trasfigurato. Cosa significa? San Paolo ci viene incontro affermando. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scrutta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui. Così anche i segreti di Dio nessuno le ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo.